Musica Hotel delle Terme Telese, siamo con Maurizio Cussolini che ci presenta protocolli di emergenza ambulatoriale in pediatria. Buongiorno a tutti, questo è un corso di formazione di alto profilo, di altissimo profilo perché ovviamente l'oggetto di questo corso sono le emergenze in pediatria, quelle che sono le criticità che i pediatri devono gestire nei propri studi e nei propri ambulatori. Ovviamente con gli strumenti che hanno a disposizione, non essendo un ambiente ospedaliero universitario, quindi sono chiamati a dover necessariamente intervenire a risolvere quelle problematiche che diversamente metterebbero a serio rischio la salute del bambino. Quindi ovviamente per fronteggiare tutta questa tipologia di emergenze c'è bisogno di acquisire delle competenze che esulano dalla formazione di base di un pediatra o di un qualsiasi altro specialista medico. Ed è pertanto questo il motivo per cui oggi con dei formatori Simeup, che è la società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica, trasferiremo ai tutti presenti questi concetti, ma soprattutto è un corso pratico perché faremo delle simulazioni, abbiamo iniziato ieri, e abbiamo dei manichini specifici che appunto sono in grado di far riprodurre fedelmente quelle che sono le criticità e le urgenze da fronteggiare e sulle quali i partecipanti, quindi tutti i pediatri che sono intervenuti, si eserciteranno. Questo corso è un fiore all'occhiello di MGM Congress, il provider ministeriale accreditato al Ministero della Salute su territorio nazionale per l'erogazione della formazione in ambito sanitario. MGM Congress si è sempre distinta per la particolarità e soprattutto per l'efficacia e l'originalità dei temi trattati che riguardano solo ed esclusivamente la formazione e quindi la tutela della salute del paziente e che l'anno scorso, come dato 2023, abbiamo formato sul territorio nazionale 534.000 medici. Allora professore, l'importanza di questi protocolli è la conoscenza che molte volte ad alcuni sfugge. Beh, in realtà questo è un corso molto pratico, in realtà cerchiamo di ragionare cosa succede nel bambino quando ha un problema respiratorio o un problema cardiaco o un problema vascolare. Di solito l'università un po' ha dimenticato quella che è la semiotica, perché se non sappiamo all'interno di un bambino cosa sta succedendo, come possiamo pensare di riuscire a riparare al danno che si sta creando. Ecco, quello che vogliamo fare qui e che facciamo nei nostri corsi è ragionare tenendo gli occhi all'interno del bambino, tenere un fonendo sul torace significa ascoltare dei rumori, ma cosa si è modificato da un punto di vista anatomo patologico nella struttura del polmone? E quindi tenere il fonendo alle orecchie ma gli occhi all'interno del torace del bambino. Professore, il dramma che vivono i genitori quando vedono delle patologie e non sanno come intervenire. Perfetto. Allora, questo è il tempo che dobbiamo dedicare ai caregiver, cioè a tutti quelli che fanno l'assistenza al paziente malato. Perché se spieghiamo bene quello che sta succedendo all'interno del loro bambino e come già il bambino si sta difendendo, perché la natura dei meccanismi di compenso già ce li ha adottati e noi dobbiamo capire cosa sta succedendo in quel bambino e cosa sta facendo quel bambino per essere aiutato e noi adegueremo le nostre terapie per risolvere definitivamente il problema. Spiegare ai genitori tutto quello che sta succedendo e quello che stiamo attuando per risolvere i problemi significa avere il massimo dell'aderenza alle terapie che vogliamo portare e che spieghiamo ai genitori in modo che sicuramente faranno le cose per bene e il bambino starà bene. Il Comedio di oggi tratta dei protocolli ben chiari, ce ne parla? Sì, è un incontro importante, se ne dovrebbero fare tanti perché questo tipo di protocolli operativi per i pediatri che lavorano in ambiente extra ospedaliero sono importanti ancora di più rispetto a quello che accadrà dal 2027 in poi con le case di comunità dove i pediatri territori sono chiamati a svolgere dei ruoli di filtro rispetto ad intercettare le urgenze improprie nei pronti di soccorso e quindi essere in grado di gestire dei codici che non sono particolarmente gravi ma con dei protocolli che devono essere creati sul territorio e richiamare delle nozioni che sono proprio di tutti i medici ma che devono essere richiamate come dicevo rispetto a un utilizzo che per ora viene fatto poco perché noi siamo abituati a gestire le prevenzioni, l'acuto ma dobbiamo avere dei protocolli sulla gestione delle piccole emergenze che possono capitare in ambienti ambulatoriali come il nostro. i defibrillizzatori non ci sono in tutti gli studi medici la legge del 2021 al quale anche la FIMP ha partecipato in senato come editing sono previsti per tutti gli ambienti dove c'è agglomerato di persone a livello extra ospedaliero e in tutti gli studi medici tranne legislativamente per ora dal pediatri di famiglia del medico di medicina generale probabilmente può essere la legge verrà modificata in futuro però allo stato attuale non è obbligatorio certo è che una preparazione su utilizzo del defibrillatore e ce lo siamo detti ieri in aula è importante perché chi si laurea in medicina deve sapere utilizzare un defibrillatore nel caso gli venga dato pur non possedendolo quindi è un passo importante